Radio Radicale, siamo in collegamento con Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola, per parlare di un appuntamento che viene organizzato il 15 dicembre alle ore 11. Si tratta di uno studio sull'economia circolare. 100 storie dell'economia circolare, lo dico in italiano però il titolo è in inglese, che viene presentato da Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, insieme allo stesso Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola. Intervendranno numerosi esponenti del mondo dell'industria, ma anche il Barbara Carfagno, giornalista e conduttrice Rai, che lo modererà. Allora, perché è importante l'economia circolare in un momento in cui, diciamo, scherzeggiano le materie prime e ci apprestiamo ad affrontare una grave stagione di aumento dell'inflazione e di prezzi delle bollette? In che cosa possiamo imparare dall'economia circolare in una fase così piena di speranze, ma anche così drammatica e piena di insidie e di incognite? Allora, perché è importante questa iniziativa? Beh, perché cerca di vedere l'Italia con occhi un po' diversi, partendo dall'Italia che c'è. C'è uno slogan che la Fondazione Simbola usa molto, che dice che l'Italia deve fare l'Italia. Noi italiani abbiamo la caratteristica, insomma, in maniera molto più spinta degli altri paesi, di essere capaci di vedere i nostri difetti, no? L'Unganesi diceva che il peggior difetto degli italiani è di parlare sempre dei propri difetti, no? Senza affrontarli, ma di essere incapaci di vedere invece i nostri punti di forza e puntare su di loro per costruire un futuro migliore. Ora, in questa situazione che è caratterizzata dalle cose che tu dicevi, no? Ma che è caratterizzata anche più in generale da una grande sfida sul tema della crisi climatica, delle politiche ambientali, l'Italia può mettere in campo spesso pratiche sottovalutate, ma che ci vedono assolutamente all'avanguardia, leader. Uno di questi campi è quello dell'economia circolare. Ora, spesso per i cittadini, l'economia circolare significa raccolta differenziata, no? Ma in realtà i rifiuti urbani, in cui noi abbiamo una situazione, come spesso capita, molto a macchia di coparto in Italia. Abbiamo eccellenze e punti di arretratezza. Adesso non parlo di Roma, perché per spirito, diciamo, di amore per la città. Ma, per esempio, noi abbiamo Milano, che è assieme a Vienna, la città europea sopra il milione degli abitanti, che ha la raccolta differenziata più alta, no? Abbiamo zone d'Italia, penso alla provincia di Treviso, in cui abbiamo 100 comuni, sopra l'80% di raccolta differenziata, e eccellenze anche a sud. Ma abbiamo aree del paese, penso alla Sicilia, ad esempio, in particolare, che sono molto indietro. Però i rifiuti urbani sono meno di un quinto dei rifiuti prodotti. Il grosso dei rifiuti derivano dalle attività economiche e produttive. Ecco, in questo campo, l'Italia è di gran lunga la superponenza europea. Noi recuperiamo il doppio delle materie prime della media europea, molto più dei tedeschi, ad esempio. Come sappiamo, la Germania è il più grande paese manifatturino d'Europa, noi siamo il secondo paese manifatturino d'Europa. E questo ci fa risparmiare ogni anno 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, 63 milioni di tonnellate equivalenti di emissioni di CO2. Tantissimo. Perché è accaduto questo? Perché abbiamo fatto delle buone leggi, perché abbiamo fatto dei decreti, abbiamo una burocrazia efficiente. No. Abbiamo qualche volta fatto anche delle buone leggi avanzate. Adesso ho visto che ieri, su qualche giornale, avevano ricordato un mio emendamento che quattro anni fa produsse per la prima volta in un paese del mondo l'eliminazione dei cotton fioc e delle microplastiche nei cosmetici. Abbiamo fatto delle buone leggi, in questi e in altri campi, sulla chimica verde, ma in realtà la nostra forza deriva soprattutto dalla nostra antropologia produttiva, possiamo dire. Noi siamo un paese povero di materie private. E quindi nel corso dei secoli abbiamo dovuto costruire filiere che sono più efficienti. I rottami di Brescia, gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia non sono figlie di una legge, no? Sono figlie di una necessità di rispondere a questa carenza di materie private. Ora, questo che è stata appunto una scelta dettata dal bisogno, dalla necessità, oggi è una chiave per il futuro, perché rispetto anche alle cose che tu prima dicevi, la scarsità di materie prime, di alcune materie prime in particolare, le terre rare, i nickel, il cadmio, la riduzione dell'uso e il recupero diventano una chiave per essere presenti. E con questo rapporto in cui si analizzano cento storie di imprese, di centri di ricerca, di istituzioni impegnate sul terreno dell'economia circolare, noi proviamo a raccontare un'Italia che è in campo, che fa le cose, che non è letta magari dalle agenzie di rating, ma fa capire perché noi siamo ancora un paese così forte in tanti settori, in tante produzioni. E quindi, scorrendo questo rapporto, che sarà accessibile, come tutti i rapporti di Simbola, gratuitamente sul sito di Simbola a partire dalla sua presentazione del 15, che abbiamo in questo caso realizzato assieme all'Eneri come altri rapporti simili, si può avere un'idea dell'Italia che fa capire perché, diciamo, possiamo essere in un'Europa che punta su questo, uno dei punti di forza e possiamo costruire un'economia che è più forte proprio perché è più a misura d'uomo. Allora, dunque, tra le cento storie di cui voi parlate, allora, il settore che in questo momento si trova in maggiore difficoltà è quello dell'edilizia. Io vedevo un servizio in televisione qualche giorno fa dove vedevo che un grosso complesso residenziale era stato, erano, erano fermati i lavori, quindi non potevano essere pagati gli operai, era tutto fermo perché mancavano le materie prima. Allora, quanto aiuterebbe l'economia circolare innanzitutto il settore dell'edilizia e in che settori avete trovato queste storie che aiuta, in cui l'economia circolare aiuta? Quali sono i settori diciamo che ne trarrebbero maggiori? Tutti i settori perché questa caratteristica nostra ha attraversato un po' tutti i settori, no? Noi per esempio siamo fra i leader nella costruzione delle piastrelle, no? Anni fa si diceva che noi saremo scomparsi, no? Come in tanti campi perché arrivavano produzioni di più basso prezzo farti da paesi dell'est o dalla Cina, no? Perché abbiamo retto? Abbiamo retto perché da un lato facciamo delle piastrelle bellissime, anche innovative sul piano tecnologico, piastrelle che abbattono l'infinamento dell'aria, che usano, riciclano materiali come per esempio il vetro per, per, nella loro costruzione, ma anche perché abbiamo diminuito l'uso di materie prime, assottigliato le piastrelle, diminuito in qualche caso i nuovi impianti azzerato il consumo di acqua con dei circuiti chiusi ridotti i consumi energetici, insomma, tutta una serie di misure che non sono state neanche fatte per sensibilità ambientale come accade in molti campi, ma sono state fatte perché è la nostra maniera di stare andando, unire la bellezza con l'innovazione e con l'efficienza. Guarda, a me mi diverte molto raccontare una cosa che pochi sanno, fra i settori in cui l'Italia ha una leadership nel mondo c'è quella delle giostre, no? I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenhagen, di Con Island giocano su giostre italiane, no? Perché le nostre giostre italiane si affermano? Si affermano perché le nostre giostre sono più belle, come tanti prodotti italiani sono più attenti alle diverse culture, sono, si dice, più sartoriali, no? Cioè, i tedeschi che sono nostri concorrenti costruiscono una bella giostra ma è la stessa in tutto il mondo. Noi siamo capaci di adattare i nostri prodotti a domande anche diverse, ma fra i vari elementi che rendono forti le giostre italiane c'è il fatto che consumano molta meno energia. Ora, non è che i costruttori di giostre hanno rispettato una legge, non l'hanno fatto neanche allora per sensibilità ambientale, no? Peraltro i costruttori di giostre in genere sono eredi di famiglie circensi, no? E quindi non credo si siano formati ai seminari della lega ambiente o di Greenpeace, diciamo, come cosa. Però vanno in quella direzione e ora che quella partita si è aperta, perché ecco, qui poi so che Radio Radicale ha una tradizionale sensibilità sui anni europei, no? E quando l'Europa già prima della pandemia e ancora più per rispondere alla pandemia punta su tre campi, tre, non trenta, cioè la coesione, la transizione verde e il digitale sta indicando una strada che non è solo dare una risposta alla generazione greta o fronteggiare un pericolo grave come quello della crisi climatica, ma è una strada che ridà all'Europa un carisma, una missione che rende più forte la sua economia, no? Ecco, in questo rendere più forte l'economia europea, parlando al mondo e accettando fino in fondo la sfida, se vogliamo, che è stata riproposta, poi al di là del giudizio che si dà sulle misure concrete adottate anche recentemente, sia nel G20 e ancor più nella COP26 di Glasgow, ecco, nell'affrontare questa sfida l'Italia può mettere in campo tantissime esperienze pratiche, concrete, diffuse sul territorio in tutti i settori in cui possiamo, abbiamo qualcosa da dire e possiamo fare dei passi avanti. Ecco, il senso di questo rapporto, di queste cento storie, è ovviamente innanzitutto quello di mostrare quest'Italia, cioè di far vedere che se l'Italia fa l'Italia, può produrre una situazione in cui le ragioni dell'ambiente, dell'uomo e le ragioni dell'economia si rafforzano lucella. Allora, il combinato disposto del PNRR, dell'utilizzo delle risorse dell'economia circolare, quanto vale? Noi avevamo parlato più di un mese fa circa di un altro rapporto che lei aveva presentato su questo. Le volevo chiedere se oggi pensate di rivedere verso il basso i benefici di questa ripresa considerando che ci sono diciamo degli elementi di maggiore preoccupazione sulla tenuta della ripresa. Io non sono in grado di fare previsioni, non ho strumenti economici, però quello che posso dire è che io per esempio non sono stato sorpreso dalla ripresa perché conosco bene l'economia italiana reale, non quella appunto che osserviamo da Marte per così dire. È vero che avevamo comunque una caduta maggiore degli altri, però insomma c'è una nostra capacità di stare nel mondo. Peraltro tornando al ragionamento che ho facuto prima sull'edilizia, uno dei motori di questa ripresa è stata l'edilizia, ma l'edilizia che è ripartita è un'edilizia diversa da quella che si era fermata, chiamiamo così. Se uno va a vedere per esempio i dati sull'occupazione che sono ovviamente importantissimi, prima della pandemia l'Italia aveva recuperato il livello occupazionale che aveva nel 2008 nella grande crisi economica, però in questo recupero c'era un grande buco che erano circa 600.000 costituzioni persi nella fila dell'edilizia. Adesso si è invertita questa tendenza. Nell'ultimo due anni l'edilizia ha aumentato 150.000 posti di lavoro, si pensa che aumenteranno altri 200.000 pur con le difficoltà che si diceva, ma non è più prevalentemente un'edilizia diciamo che consuma il suo oro di speculazione, è un'edilizia che ha cambiato sempre, legata alla riqualificazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle azioni appunto di riqualificazione anche nelle città. In questo caso sì, aiutata da politiche pubbliche perché poi tu fai una intensa e devo dire molto seria attività parlamentare, sai quanto da molti anni la spinta per favorire un'edilizia attraverso l'ecobonus, il sisma bonus che puntasse sulla riqualificazione diciamo degli edifici innanzitutto sia stata costante e adesso anche se poi penso che si possa migliorare magari abbassarlo un po', sburocratizzare i passaggi. Quella spinta è quella che fa dare un grosso aiuto alla ripartenza di una nuova edilizia che per l'appunto è più attenta a queste cose. Aggiungo che la politica spesso queste cose le guarda insomma in maniera un po' superficiale e distratta sono perfino buono perché per esempio noi in questo paese noi abbiamo avuto un grandissimo dibattito intorno all'eliminazione del limo sulla prima casa. Quando è stata eliminata il limo sulla prima casa questa valeva in media 220 euro a famiglia 230 euro a famiglia in media fra una casa costruita bene e una casa costruita male prima degli aumenti delle bollette che ci sono adesso c'era una differenza di 1500 e 2000 euro fra una casa che non consumava le giri ridurre di un terzo quella spesa l'Europa chiede che nei nuovi edifici si chiamano al consumo quasi zero si può andare molto oltre un terzo significa il triplo del limo quindi in realtà quando uno mette mano a una propria abitazione magari usando incentivi pubblici ottiene degli effetti che sono tutti positivi riduce l'inquinamento riduce le bollette delle famiglie produce lavoro e aiuta a contrastare la crisi climatica è una misura molto importante che va nella giusta direzione quindi in realtà diciamo spingendo in questa direzione abbiamo solo dei vantaggi del paese che dovranno affrontare dei cambiamenti ma c'è una strada in cui l'Italia che scommette sull'innovazione sulla qualità e fronteggia questi problemi ha molto da dire certo non c'è il rischio di bloccare però il mercato immobiliare perché? nel senso c'è questa direttiva per esempio che impone diciamo una determinata classe di energetica per le abitazioni allora se questa non diciamo non viene non viene raggiunta ci sarebbe secondo almeno quello che è stato speso in una direttiva il divieto di vendita ecco questo potrebbe potrebbe bloccare insomma il mercato immobiliare c'è questo rischio se noi avessimo comunicato non ho capito se noi avessimo comunicato bene se noi avessimo comunicato bene benissimo allora no io francamente non vedo questo se noi avessimo comunicato bene le cose che dicevo io prima cioè per capirci se noi avessimo spiegato alle famiglie italiane che aiutati da risorse pubbliche potevano rendere la propria casa più economica più bella e quindi anche di maggior valore perché anche il valore delle case dopo che hai fatto quelle operazioni oggi pagheremo delle bollette molto più basse l'Europa sostanzialmente vuole mettere in chiaro qual è il fitto occulto che noi paghiamo ancora oggi uno sta molto poco attento quando fitta una casa a capire quanto consuma quella casa no ma quando consuma quella casa molte volte è tanto cioè un vero fitto nascosto quindi bisogna aiutare i cittadini aiutare ovviamente soprattutto le categorie deboli questo in parte si è fatto con il con 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 l'eco bonus perché è permesso cedere diciamo il credito a cui non ha diritto a soggetti terzi quindi sostanzialmente fare i lavori anche per chi non ha le risorse per fare i lavori no ma è una strada che dà qualità alle abitazioni e riduce di molto l'inquinamento e le bollette troviamo le maniera per farlo in maniera intelligente ma avremo dopo case migliori più sicure perché spesso bisogna renderle anche più sicure anziché piangere i morti dopo un terremoto o dopo in ogni caso degli eventi naturali diciamo e rilanciare fortemente un settore dell'economia che è importantissimo le delizie importanti anche perché l'edilizia non si localizza è difficile delocalizzarla sì direi di sì anche se poi anche in generale posso dire una notizia che mi ha fatto piacere questa mattina perché in realtà anche se noi siamo un po' c'è sempre un pianisteo in materia già prima della pandemia era in corso il reshoring cioè stavano tornando in Italia molte imprese perché quando all'estero non riesci a garantire la qualità dei prodotti e quindi molte imprese stavano tornando nel nostro paese e ho visto che anche Dolce e Gabbana forse anche perché avevano sbagliato una campagna pubblicitaria in Cina erano portato via le persone dalla Cina per tornare in Italia ma era un meccanismo molto più esteso di quanto si pensi tant'è vero noi eravamo il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di imprese che ritornavano in patria ma adesso questo processo si è ancora accelerato perché l'incertezza come dicevi tu delle forniture dei collegamenti l'incapacità di produrre qualità in produzione che avvengono lontano dall'Italia è molto forte leggevo oggi su qualche giornale che anche la mitica Bianchi la bicicletta che veniva prodotta per la in Cina sta tornando in Italia con un forte investimento quindi diciamo scommettiamo sull'innovazione e conserviamo l'anima produttiva di questo paese allora io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato il senso di questo studio sull'economia circolare che presenterete il 15 dicembre alle ore 11 e che tutti potranno seguire attraverso il sito di Simbola 100 storie economiche dell'economia circolare io l'ho detto in italiano però il titolo è in inglese parliamo bene dell'Italia insomma vogliamo che le imprese ritornino allora presentano il rapporto Francesco Starace amministratore delegato e direttore generale di Enel insieme a Ermete Realacci presidente della fondazione Simbola che ci ha aiutato diciamo a presentare questo studio in anteprima su Radio Radicale e di questo naturalmente la ringrazio molto io ringrazio Radio Radicale che sta sempre un servizio prezioso con tanti campi e se si occuperà sempre più di questa frontiera dell'Europa e dell'Italia sarà ancora più apprezzata grazie Ermete Realacci Grazie